A certificare quanto noi eravamo convinti e siamo convinti delle qualità e della bontà di questa operazione di Filippo Pittarello, in questa occasione siamo riusciti, grazie alla volontà del giocatore, che sottolineo, di venire a giocare per noi, perché Filippo Pittarello era nelle mire anche di altre società importanti. La volontà del club di riuscire a realizzare questa operazione di mercato, il gradimento da parte mia, indubbiamente, ma anche dell'allenatore, insomma, le componenti si sono incastrate in modo tale che l'operazione sia resa possibile. Trovarmi qui in questo momento è la consacrazione del lavoro che ho fatto in questi anni, perché, parliamoci chiaro, Cesena non è una piazza normale di Serie C, ne parla la storia, ne parla lo stadio, ne parla, mi auguro di vederlo molto presto, i tifosi. Il fatto che io abbia cambiato dalla Virtus Verona, che porterò sempre nel mio cuore, rispetterò sempre perché mi ha dato la possibilità di essere qui, al Cesena, mi auguro di riuscire ad andare in Serie B con il Cesena, deve essere il mio trampolino di lancio e soprattutto voglio fare bene qui a Cesena.